Ciao a tutti, siamo ancora qui a Villa Beria in compagnia di Eleonora e di Veronica. Ciao ragazze! Ciao! E oggi parleremo invece di cani, di un'avventura che è accaduta ad un gatto. Ad un gatto, Trilli. Che ha avuto un incidente assurdo. A te la parola. Allora, direi che Trilli è il primo caso di gatto che investe una macchina. In realtà lei era comodamente adagiata sulle gambe del patrone, fuori in giardino, a ridosso di una strada privata e, spaventata da un gatto, da un cane, scusatemi, è saltata dalle ginocchia del padrone e in quel mentre sovraggiungeva una macchina e lei ha preso lo sportello della macchina. In pieno viso. In pieno viso. Il gatto è rigaduto a terra e da lì non si è più mosso. respirava, respirava, tant'è che i proprietari l'hanno presa di corsa e l'hanno portata in un pronto soccorso per prestarle assistenza. Certo. E che cosa le hanno detto? Al pronto soccorso hanno fatto una serie di indagini, l'hanno comunque stabilizzata, hanno tentato di capire che tipo di problema ci fosse stato, probabilmente derivava da un trauma cranico evidente, a cui poi è seguita una lesione cerebellare. Il cervelletto è comunque una parte del nostro sistema nervoso centrale che è deputato principalmente all'equilibrio, ma ha un'altra serie di attività, fra cui la coordinazione. Infatti i trilli, poi la vedremo, cammina ancora in una maniera abbastanza particolare. è stato di fatto che quando è arrivata a Villa Beria era stesa su un fianco e con uno sguardo abbastanza perso nel vuoto. Questo perché i gatti, così come gli umani che hanno subito un grosso trauma alla testa, hanno difficoltà inizialmente ad orientarsi nello spazio, a riconoscere se stessi in uno spazio. Era disorientata, non capiva dove era, chi eravamo noi, non riconosceva i proprietari, sembrava, come dire, ubriaca, era veramente fuori di sé e in più non riusciva a muoversi, per cui era una situazione veramente drammatica. Anche lei sembrava un po' una bambola all'inizio. Sta di fatto che abbiamo cominciato a mettere in pratica una serie di terapie sostanzialmente cognitive con lei, per cui al di là delle mani o comunque di alcuni strumenti, prevalentemente la magnetoterapia che ci sarebbe servita per ridurre l'edema a livello del sistema nervoso centrale, abbiamo tentato di riportarla su questo mondo, nel senso stimolandola il più possibile. In collaborazione anche con Veronica la chiamavamo spesso, le davamo molto molto stimolo visivo tramite i più comuni giochini per gatti, oppure tramite le mani, battendo fortemente le mani, i rumori. Quindi la mettavate lontana e la richiamavate a voi? Sì, tentavamo comunque di scuoterla, di richiamare una Trilli che era un po' sulle nuvole, non aveva probabilmente una sensazione alterata dei suoni, non riusciva a capire da dove provenissero. Fatto sta che le prime volte che la chiamavamo, lei neanche si girava verso di noi. Poi piano piano, devo dire anche che siamo stati abbastanza rapidi con Trilli, e di questo il proprietario non è stato molto contento, anche perché veniva e anche lui tentava di fare le terapie attraverso il cibo, che è stato forse fondamentale con Trilli che adora i gamberetti lessi. Ha fatto la terapia a base di gamberetti. Sì, la cosa fantastica era che il proprietario veniva con i suoi gamberetti dentro la ciotolina e veniva invitato da noi a posizionarli lontani dal gatto, che era comunque a un paio di metri di distanza e la chiamava, la chiamava, la chiamava. Devo dire, i primi giorni è stato abbastanza bilente, perché lei era realmente in seria difficoltà. Sta di fatto che il proprietario, anche lui, ha assistito in pieno a questa riabilitazione, perché a parte che era molto presente, abitando comunque qui vicino, è riuscito lui stesso, tramite il cibo, proponendole comunque un forte stimolo. In qualche modo a farsi riconoscere, poi? Non solo a farsi riconoscere, ma forse è stato il primo che l'ha vista in piedi. Nel senso che lei ci ha ovviamente provato, è rimasta in piedi, per un po', poi ha perso l'equilibrio. Ma è caduta. E quindi è caduta. E devo dire, da lì è stata, diciamo, un'escalation, per cui, insomma, alla fine tutto si è risolto in maniera molto felice. Infatti è tornata a casa, lei era qui con noi per obbi motivi, perché c'era una difficoltà di tipo... Se lo faccio cenni, so. Ah, questa è Trilli. Faccio cenni a Serena che ci ha portato Trilli. Ci ha portato, nel frattempo, Trilli, che è una gattona enorme. Sì, perché però giustamente non ha grande voglia di stare qui con noi. No, devo dire, ha delle difficoltà, come dire, a farsi tenere ferma, visto che è stato tanto tempo seduta, quindi io tento di lasciarla a loro in maniera tale che sia buona. Sta di fatto che è molto importante, anche ai fini della riabilitazione, sembra assurdo, ma anche la carezza, la carezza che sia più o meno forte, i cambi direzionali anche direttamente in braccio. Cioè, quello riporta il nostro sistema nervoso centrale a fare una serie di adattamenti. Sono cose, direi, quasi banali da dirsi, però non scontate perché in realtà il sistema nervoso è talmente complesso da fare durante qualsiasi movimento una serie di operazioni. e lei aveva la difficoltà di metterle insieme queste operazioni, non si coordinava più. Adesso, se mai dopo, la lasceremo andare, vedremo come cammina. Certo. La vedrete che è ancora barcollata. Ma ricordiamoci che comunque è arrivata. Ma è viva. È viva prima di tutto, e questa è una cosa importantissima. E poi, insomma, è attiva, intelligente, riconosce. Assolutamente, sì, anche molto furba e sin troppo attiva, devo dire, oggi. Sta di fatto che onora i proprietari che pur trovandosi in una situazione disperata ci hanno creduto con noi. Noi non sappiamo mai come potrà andare una terapia. Molti ce lo chiedono. Esatto, quello ti volevo chiedere anch'io. Quando il momento in cui ti arriva un animale con delle difficoltà, se tu già sai più o meno a cosa potrai andare incontro, se addirittura lascia perdere magari. Avrei una splendida palla di vetro che non ho, avrei una fila alla porta che non ho, per cui, insomma, mi regolo sul buon senso. Ovviamente ho una serie di bagaglio culturale che mi può portare a avere un'idea di dove sto andando, ma sta di fatto che la terapia è fatta di valutazioni. Ti è mai capitato di pensare che non ce l'avresti mai fatta? Io mi deprimo spesso e volentieri, ma non lo dico mai. Sono scaramantica, non do mai previsione a nessuno, perché non mi piace prendere in giro la gente. Illudere il proprietario e dirgli non si preoccupi, il cane e il gatto torneranno in piedi sicuramente. Questo non è il mio mestiere. Però poi te ci pensi, no? Per carità, io dentro di me ci penso, poi ogni tanto mi prende lo sconforto, quindi magari mi arrabbio anche tanto con loro, delle volte mi capita. Fatto sta che comunque alla fine, per fortuna non sono da sola, ma ho chi mi aiuta anche a crederci in determinate cose e quindi ci facciamo forza l'una con l'altra. È ovvio, poi, veramente siamo tutte donne, per cui siamo abituate a fare gruppo in questo senso. E con Trilli è stata sinceramente dura, perché poi è arrivata sotto il periodo di Natale, cioè era proprio una situazione molto pesante per i proprietari. Quanta è durata l'assenza, diciamo, di Trilli? È durata buone tre settimane. E quindi dopo la terza settimana hai iniziato? Già dalla seconda settimana, ma dalla terza settimana cominciava a camminare, anche se malamente, strusciando un po' per terra, gattonava, diciamo, in maniera abbastanza strana. Si appoggiava anche a muri. Si appoggiava ai muri. Sì, questa è una cosa, aveva trovato il suo metodo per non cadere, il suo equilibrio. La sua stampella. Sì, lei adorava una stanza che abbiamo di là, che porta a un lungo corridoio, lei passava fianco fianco al suo corridoio e andava, insomma, appoggiata al muro. Adesso si sta andando a fare un giro. Possiamo vederla mentre cammina. Tipo soldatino. Sì, tipo un po' soldatino. So di fatto che, vediamo se riusciamo a recuperare. Hai ancora paura dei cani? Lei? Ma credo che, alla fine, stando qui, si sia abituata, perché qui ne ha visti veramente tanti. Mi sa che adesso ha un po' più paura delle macchie. Ma noi abbiamo provato, sì, quello sicuramente. Anche perché qui di cani ne ha visti tanti e ci sono serviti proprio anche per risvegliarla, nel senso che un cane per un gatto, si sa che è un forte stimolo. Qui ne passano tantissimi, anche gli odori, da quel punto di vista, sono stati importanti per lei. Certo. Perché comunque sentire una certa tensione fa sì che venga fuori il loro spirito di sopravvivenza. Quindi tutta la cura che ha coinvolto Trilli è stata, l'hai basata soltanto su percezioni? È stata principalmente gestionale e sulla percezione olfattiva, uditiva, sensoriale, proprio nel vero senso della parola, proprio eccettiva, dati i cambi di posizione spesso in braccio, perché lei non ha camminato. Quindi non c'è stato nessun supporto? L'unico supporto che le abbiamo fornito strumentalmente è stata la magnetoterapia, perché la magnetoterapia ha delle proprietà antiedemigene, cioè nel senso riduce la edemi magari dopo il trauma. Ah beh, certo, dopo il trauma si forma l'edema normalmente. Sì, normalmente può capitare. E quindi lei veniva posizionata dentro un normale trasportino per gatti, la nostra magnetoterapia veniva stessa sotto e lei passava almeno un'ora buona, così, tranquilla, in cuccia. Fantastico, è bello sapere che siete tutte donne, tutte brave, in gamba. Diciamo che ci proviamo, insomma. No, sono molto felice di avervi conosciuto e sono convinta che anche le nostre amiche a casa la pensino come me. Ragazze, bocca al lupo per tutto. Crevi. Vi salutiamo, un abbraccio a tutti e a prestissimo. Ciao.